Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, un video che riguarda tutti noi, riguarda il nostro passato e probabilmente anche il nostro futuro. Mi riferisco a come sono cambiate le automobili negli ultimi dieci anni. Perché dico che riguarda tutti noi? Perché dieci anni è proprio il periodo di media in cui un italiano tiene la propria automobile, anzi in realtà sono undici anni, il periodo di media di possesso di un determinato veicolo. E allora partendo da questo presupposto mi sono detto, dieci anni fa le automobili erano molto diverse e chi deve cambiare automobile adesso e magari non segue quotidianamente il mondo dell'auto si trova un po' spiazzato. Quindi partendo da questo presupposto ho trovato un pochino di dati che sono molto curiosi e ho deciso di realizzare proprio questo video. Quindi partiamo con le cose che sono cambiate nel corso di questi dieci anni nel mondo dell'auto. Prima di cominciare però vi ricordo che nei prossimi giorni faremo un Q&A, quindi risponderemo alle vostre domande, alle vostre curiosità sul mondo dell'auto. Quindi potete utilizzare il box dei commenti qua sotto per farmi tutte le domande su qualsiasi curiosità abbiate. Noi selezioneremo le migliori e le metteremo all'interno del nostro video. Dimensioni è la prima parola chiave che mi è venuta in mente guardando i dati di adesso rispetto a quelli delle automobili di dieci anni fa. Infatti le automobili di adesso sono più lunghe di 20 cm in media, più larghe di 5 e più alte di 6 cm. Quindi con l'arrivo dei SUV sono diventate molto più grandi in questa sorta di 10 years challenge che ho deciso di realizzare. Si nota anche che le automobili da adesso sono 90 kg più pesanti. Tutto questo chiaramente dato dal fatto che ci sono più accessori a bordo. Seconda parola chiave, SUV Sport Utility Vehicle. Nel 2009 il SUV più richiesto era Nissan Qashqai ed era anche l'unico rappresentante di questa categoria all'interno delle automobili più richieste. Adesso ne troviamo ben 4, Dacia Duster, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 e Peugeot 2008. Quindi gli italiani hanno scoperto una vera e propria mania dei SUV. Non so cosa ne pensate voi ma insomma qui sotto c'è il box dei commenti ditemi cosa ne pensate sui SUV. Magari le avete scelte anche voi, siete proprio tra quelli che sono rientrati all'interno della mania degli Sport Utility Vehicle. Terza parola chiave, i consumi. So che tanti di voi sono critici rispetto alle automobili di adesso ed effettivamente qualche volta i consumi sono anche un po' deludenti. Lo vediamo nei nostri test drive, soprattutto se paragonati ai consumi dichiarati. Proprio partendo dai consumi dichiarati si tratta di 0,4 litri ogni 100 km in meno per le automobili di adesso rispetto a quelle di 10 anni fa. Tutto questo però contando un aumento di peso che è piuttosto importante, l'abbiamo visto, 100 kg in media per ogni automobile venduta. Questo quindi significa che nonostante le automobili di adesso riescano a offrire più accessori, più comfort nei lunghi viaggi e anche negli spostamenti quotidiani, riescono comunque a consumare un pochino in meno. Comunque qui si poteva fare forse qualcosa in più. Vedremo se i prossimi 10 anni, magari con l'arrivo della elettrificazione, andranno a migliorare questo aspetto. Quarta parola chiave, Italia. Perché ho deciso di utilizzare questa parola chiave? Perché le automobili comprate dagli italiani o quantomeno richieste dagli italiani sul nostro portale DriveGay sono sempre meno tricolore, sempre più internazionali. Infatti abbiamo la Panda che è regina delle richieste online al primo posto e anche poi regina di vendita effettivamente, seguita dalla Dacia Duster, non più dalla Punto e dalla 500 che 10 anni fa occupavano rispettivamente la seconda e terza posizione. Dopo la Dacia Duster, in terza posizione troviamo sempre un'altra Dacia, la Sandero e poi successivamente scorriamo ancora con Volkswagen oppure Opel Corsa, giusto per fare un nome, Renault. Insomma, tante francesi, delle tedesche, stiamo diventando sempre meno italianofili e sempre più internazionali. Quinto punto, il colore. Dieci anni fa gli automobilisti italiani sceglievano automobili nere e grigie principalmente e tutte le varie gradazioni. Adesso troviamo delle automobili vendute con colori decisamente diversi come esempio il giallo, il rosso, il verde o ancora il blu e queste automobili vengono vendute sempre più spesso. Chiaramente negli ultimi anni quello che abbiamo visto esplodere in assoluto è stato il colore bianco che è passato da essere il colore dedicato principalmente all'auto del servizio pubblico, quindi taxi, a essere il colore più scelto dagli automobilisti. Quindi questo è cambiato e in futuro potremo vedere anche una variazione ancora e vedere magari delle automobili con dei colori sgargianti proprio diffondersi nelle nostre strade. Ed infine, la sesta parola chiave, lei, la regina incontrastata, la Fiat Panda. La Fiat Panda è rimasta dieci anni fa in vetta alle classifiche e lo è ancora adesso, seguita da Lancia Ypsilon e Citroen C3. Citroen C3 che è stata comunque riaggiornata negli ultimi anni, la Fiat Panda non è stata riaggiornata negli ultimi anni, sono qualche piccolo restyling. Come del resto anche la Lancia Ypsilon che hanno resistito tutte e tre alla prova del tempo in maniera eccellente, rimanendo saldamente in cima alla classifica. Comunque la Fiat Panda gira che ti rigira, fin dagli anni 90 rimane la regina in Italia per quel che riguarda le automobili. Chissà cosa succederà in futuro, vedremo. Magari nel 2029 continueremo a trovare la Panda come l'automobile più venduta in Italia. E poi ci sono altri temi come ad esempio il design di dieci anni fa che era completamente diverso, in alcuni casi era anche discutibile se vogliamo, in altri invece si potrebbe parlare di prezzo. Gli automobili di dieci anni fa costavano meno rispetto ad adesso? Sì, offrivano di meno? Sicuramente. Quindi anche qui entriamo in un altro tema che durerebbe, ci impiegherebbe veramente anni prima di arrivare a una conclusione e forse non ci arriveremo neanche. Quindi qui sotto avete il box dei commenti se volete farmi sapere la vostra. Io vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube, noi ci vediamo alla prossima sempre qui su DriveK, mi raccomando continuate a seguirci. Ciao!